7up Adamo e incorpora tutto bene ora? Aiaiai Comunque sono comportati benissimo in 5 del secondo tempo sono stati grandiosi Lasca mi importa spettacolari non so se li hai visti Manuel fa dei rinvi incredibili presenta è costa è incredibile quindi è la prima volta che vediamo i 7up da quando vi conosciamo prima in classifica soffrite le vertigini? Noi ci divertiamo, ci stiamo divertendo la quarta vittoria di fila sei un conino fin da quando ero piccolo Comunque è il vostro anno è il nostro anno, ti ripeto ci divertiamo a giocare così siamo alla quarta vittoria di fila speriamo di continuare la settimana prossima ci sono i Maribor questo si può dire è già un esame per voi si assolutamente, oggi hanno battuto i Torres erano l'ex caponista speriamo noi di superare questa prova campionato riaperto si può dire non è mai stato chiuso non siamo sempre là se sbagliamo una volta loro ci ripassano quindi siamo là va bene, va bene vuoi dire qualcosa di nuovo? che ti saluto a parlare e che ti interrompo? oggi non vuoi parlare? va bene allora ci vediamo settimana prossima e complimenti grazie grazie ciao grazie 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 grazie